DARK SIDERS 2 DARK SIDERS 2 Mi sembra, scusami È la stessa cosa che se faccio andando avanti Va bene, abbiamo speso 2000 gold per niente Boh, magari con queste armi non fa niente di speciale Ma magari con altre sì, non lo so Tra l'altro vorrei far notare una cosa C'è un albero qua in mezzo alla pozza, no? Ce n'è un altro anche vicino alla lava Però giustamente quello è crepato, ma poverino Ehi tipa, sono tornato Hai visto? Il fuoco funziona Eh, lo vedo Ah, beh, dai l'ha ammesso Quel cucciolo? Non capisce niente E invece è stato più utile di te Eppure La forgia si è riaccesa Sai che cosa ti aspetta, cavaliere? Ora devi ripristinare il flusso delle lacrime Chi l'avrebbe mai detto? Io sono il galoppino dei creatori Già Ma ora i nostri destini sono legati Aiutaci E noi aiuteremo te Quanta arroganza Potrebbe servirti Che cos'è? Un'arma? È una pistola Ma che figo Grazie Redenzione Una potente pistola che appartiene al conflitto Il fratello di... La pistola di mio fratello? Davvero Conosco questa pistola Appartiene a mio fratello Eh, esatto Com'è arrivata fin qui? Non saprei Ma ora potresti barattare anche qualcos'altro Ripristina il flusso delle lacrime E torna da me Ok Fammi vedere che cos'hai prima Dai un'occhiata ai nuovi oggetti Dai un'occhiata Va bene Allora Uella Artigli selvaggi Lama da braccio Brocchiero selvaggio del gelo Questi sono dei pugni sicuramente Ok Per adesso Non ho Niente da comprare Perché sono povero Vabbè Mi hanno dato un po' di soldi Fuoco della montagna Parla con Karn Dov'è Karn? È ritornato in città? Ah ecco Ma i proiettili Si rigenerano? Si Si rigenerano nel tempo Cosa ti porta qui da me? A differenza della pistola di Di morte Di guerra Questa ha i colpi Un attimo contati E devi usare un attimo di Di ricarica Mi piace che Come la tiene Vieni qua che ti ammazzo Porca troia Quanto ci fai che questa pistola Ci serve per avanzare Nella storia ora? Karn si trova qui Nella valle del padre di pietra Mi posso teletrasportare Qui a andare a galoppo? Si posso farlo Perfetto E posso usare la pistola Anche a cavallo Ovviamente Ma l'occhio di Sauron Lì ci Ci segue? Adesso siamo qui Mi sembra che mi stia fissando Proviamo a vedere se dall'altro lato Mi fissa uguale Ehi Karn Ciao Abbiamo cercato di fermare la corruzione Ma senza successo Ma va Chi l'avrebbe detto Che cosa puoi dirmi Delle lacrime Della montagna Il forte sommerso Si trova dietro questa barriera E' la prima cosa Conquistata dalla corruzione Abbiamo sigillato Le lacrime Del padre di pietra All'interno Per paura di ciò Che sarebbe accaduto Se si fossero disperse Sì Se la corruzione Ci fosse arrivato Lo scoprirai presto Già E il regno Ci guadagnerà Che siano pure Come la pioggia O nere come il peccato Le lacrime Porranno fine A questo stallo Certo Un po' di aiuto Ad aprirlo Se proprio vuoi partire Non sarò io a fermarti Esplorare è meraviglioso Non si sa mai Che cosa puoi trovare Per esempio E' una bella giornata Nel di opportunità E' probabile Che ce l'abbia lasciata io Per errore anni fa Se la trovi Sarò in debito con te Va bene Sì Mi apri qua la porta Trova l'elmo di Karn E come apro qua E comunque sì Mi sembra che l'occhio Ci segue assolutamente Aspetta Quelle sono caccole esplosive Non l'avevo visto Che erano là in alto Io Quella Sta zona è tutta grigia Ah beh certo La gola dell'ombra Effettivamente E' tutto grigio E' un film noir Questo Cioè non è che è diventato Grigio gradualmente Proprio Pam Grigio totale Qualche nemico Sì Qualche nemico La pistola non fa Gran che di danno Vieni qua Perfetto Ah ok Pensavo l'avessimo finito Con Queste sono le vespe Vieni qua Sì Lo vorrei fare Se tu me lo facessi fare Perfetto E il nido Delle vespe E' andato Ho bisogno Di soldi Qualcuno mi dia i soldi Vieni qua Dove vai Vieni Vieni qui che ti ammazzo Con un colpo Porca troia Troppo piccole Non riesco a prenderle E abbiamo anche trovato Il veleno della vespa Chiedi a carne Della pietra intagliata Ok Ah Rigor di logica Io già tornerei indietro qui E proverai a parlargli Ma secondo me Già se n'è andato Nabbè forse no Perché gli dobbiamo dare l'oggetto Forse no Dobbiamo andare di qua No di qua probabilmente C'è un oggetto nascosto Come al solito E' più o meno Un open world Questo Ma Diciamo appunto Molto Più o meno Dove sono finito Dove cazzo sono finito Sono nell'oscurità No dai No dai Perché mi ritrovo sempre incastrato Per uscire da queste situazioni E scusami Dove sono finito Dove sono sceso io Ah sono finito Vabbè guarda Sono finito in mezzo A due cacchio di piloni Vediamo cosa c'è qua dentro Allora sicuramente Non è una zona Che dovrei visitare ora Molto probabilmente Però c'è una cesta Soldi Soldi Più che altro Sono incuriosito Perché c'è il corvo Che sta andando Da questa parte La forgia danneggiata Con una cesta Messa lì Così semplice Mi sembra una trappola O probabilmente Sarà un bello oggettino Molto probabilmente Ma se mi butto in acqua Che succede? Posso arrampicarmi Perfetto Io volevo giusto Vedere se c'era uno Di questi in giro Sono incuriosito Da sta parte Perché Il corvo Andava da questa direzione Quindi vuol dire Che qualcosa c'è Qualcosa c'è Da questa parte E infatti c'è una cesta Il punto è Possiamo andare In questa zona Cioè È a nostro livello Per ora Non ho visto nemici Quindi Qua si scende ancora C'era Una piccola caverna Nascosta Per fortuna Che tu Tu fratello Probabilmente anche Gli altri giochi Non avete bisogno Di respirare Voi sott'acqua Nemici brutti Adesso arrivo E vi spacco la faccia E qua c'era una cesta Vediamo Ed è una bella cesta Tra l'altro Con la mappa Del sotterraneo Ok Il più è Appunto Se il corvo È andato da questa parte Vuol dire Che questa parte Serve Cioè magari Per entrare Dove dove Dovevamo Dobbiamo farci Il giro Da questa parte Non lo so Ipotizzo Magari è solo Una zona Dove c'è nascosto Un oggetto E niente più Magari è solo Quello Ehi là A voi Mostroidi Aspetta Vieni qua Che devo provare Vedi però Io non vedo differenza Nell'attacco Con la schivata È un attacco Come gli altri Ma almeno Questo qua Con la falce È fatto bene È carino Quell'altro No invece È proprio Un attacco Normalissimo Ma magari Magari La butto lì È solo Perché Stiamo usando Un'arma Veloce Non abbiamo Armi pesanti Ora Vero No Perché magari Con un'arma Pesante La schivata Il triangolo In avanti Ha più senso Quella era Un equipaggiamento Sì Dei Bracciali Con più difesa Ma meno Colpo critico Vabbè La difesa È più importante In questo momento E da questo lato Ci sono addirittura Due forzieri Va bene Allora proseguiamo Da questo lato Prima Anche se magari Poi non serve A nulla Voglio vedere Dove ci porta È probabile Che devo solo Scendere Vero Alla Prisof Persia Maniera Era facile Ci sono Un attimo Arrivato dopo Ma Non era difficile Stessa roba Qui Ok In realtà Ho capito Il consiglio Del gioco Quando c'è Il muro Un po' Grattato Ci puoi andare Su sicuro Cioè In realtà Puoi andare Su tutti i muri Ma Quando c'è Quella linea Così Ci puoi andare Senza problemi Ecco fatto Appunto Però a questo punto Mi chiedo Qua sotto C'era qualcosa No Beh Lo vedrei Sulla mappa Quindi Proseguiamo Cacco Le esplosive Ok Dove sono No dai Perché sono Caduto Dai Fammi passare Aspetta Mecca di questo Là dentro Cosa c'è Ah è il corvo Che stupido Ecco fatto Livello Aumentato Addirittura Perfetto Ora siamo A livello 5 Aspetta Siamo A livello 5 Possiamo Finalmente Usare Quest'arma Lo sape Ci ho pensato Dopo Ma lo sapevo Che erano I pugni Ah no Sono Artigli Sì Volevo Sapere Solo Che cosa Erano Eh sì Sono pugni Fa una specie di scudo Se tengo premuto Questo vuol dire Che probabilmente Ci colpiscono E noi facciamo Un contrattacco Sì sono alla fine Degli artigli Niente più Niente meno E come lo raggiungo Quel caccolone Ah ok C'era La salita di lato Perfetto Che stupido Allora Prendiamo questo Lanciamo la caccola Là Devo colpirla Sì Perfetto E ora Possiamo andare Da questo lato Ci saranno Altri nemici Grossi Voglio provare La mia nuova arma C'è una grossa Leva Probabilmente Alzerà L'acqua Secondo me Sì Secondo me Alza L'acqua No Gira Tutti i muri Per arrivare Alla caccola Esplosiva Ok Quindi Questo vuol dire Che con questo Risalgo No Sali su E da questi Vado Dall'altro lato Perfetto No Che scemo Dovevo saltare Non ho fatto in tempo No Dove sono No Ti devi rifare Tutto il percorso No Ti odio Cos'è sta caverna Cos'è sta roba Perché era tutto nero No Dove sono finito Aspetta No dai Ti prego Dove cazzo Sono finito No dai Solo perché sono sceso Nell'oscurità Sono finito Bloccato Ti prego No Sono dentro Una pianta Sono dovuto Uscire Con lo spostamento Rapido Dai Lo stavo elogiando Sto gioco Stavo dicendo Che era bello Che mi Che mi stavo ricredendo Sulle cose che avevo detto E poi Anche perché Il punto in cui Sono caduto Era questo E il buco nero In cui sono entrato Era questo qua Cioè La zona in cui si entra E io sono finito Dentro questa pianta De cazzo Dai Avevo fatto i complimenti A questo gioco Ho detto che mi ero ricreduto Sulle cose che avevo detto Che ero contento Anche che lo stavo giocando E poi Sti errori così No Ti prego Tra l'altro Guarda lì Che cosa C'è nascosto Questo è un caccolone Di quelli verdi Cioè Qua Questo coso Può esplodere Meno male Che sono caduto Che ho scoperto Sta roba Dobbiamo fare attenzione A ste Piante Tra virgolette Dobbiamo ricordarci Allora Aspetta Aspetta Perché Ora Mi viene il dubbio Ma io Ste caccole Tipo adesso la lancio Una Posso riprenderla Posso riprenderla Sì Dannazione Sì Ecco come si fa Ok Devo lanciarla però Su un muro Devo lanciarla Su un muro E non per terra Proviamo a lanciarla Tipo lì Raccoglila Perfetto E che tra l'altro Non ho idea di cosa sia Quella roba lì Per fortuna Sti cosi non esplodono Vediamo che cos'è Lame omega Vengono ricavate Pezzo dopo pezzo Dalle armi distrutte Degli angeli uccisi Ogni colpo inferto Con queste falci Può dar fuoco ai nemici E il rogo Può diffondersi Nei nemici vicini Questo effetto Noto come fuoco omega Consuma chiunque osi Opporsi all'equilibrio Che figata Porca troia Ho fatto benissimo A venire in sta parte Ed è di livello 7 È di livello 7 E queste sono lame da bra Ah Aspetta Vuoi vedere che Ogni arma C'ha il suo Posizionamento Quindi Le lame da braccio Hanno la lama verso di qua Gli artigli sono verso di qua Perché questi alla fine Questo sono Tra l'altro Scusa un attimo Se tolgo l'equipaggiamento Io non posso fare a pugni Non ancora Perlomeno Anzi Meno male Che sono dovuto Ritornare In sta zona Meno male Che sono successi Quei bug assurdi Quindi ora Dobbiamo solo Fare attenzione Perfetto Allora Caccolone esplosivo Verde Questi esplodono A contatto Giusto Cioè Esplodono Dopo Tot secondi Ok Qua è dove siamo arrivati Che stupido Boss fight Ovviamente Come dire Che ti lasciavano andare Con un oggetto del genere Ehi Ah giusto Non ho equipaggiato Le armi Che stupido L'avevo tolta Che è successo Che è successo Morto Quella Quella Non mi buttare Di sotto Falci Wow E' un dial impact È il dial impact Di one piece Questo Ti dà il colpo Prendi il danno Ma poi lo riassorbe Lo rispedisce Ok Se aumenti la difesa Di quest'arma Può diventare Veramente utile E abbiamo trovato Una falce Che è più potente Di questa qui Ma questa Perlomeno Ci dà un po' Di energia Però questa Probabilità Di critico Ok Per adesso Punto più Sull'efficacia E sul danno Dell'arma Che sui suoi effetti Però tutte Wow Allora Guarda Le falci Secondo me Sono tutte Personalizzate Però aspetta Ma sono possedute Non avevo fatto caso Che erano possedute No Allora aspetta Eh vedi che allora Non è come dicevo io Se tu dai Della roba Un'arma posseduta Non livella Il totale Di quello Che gli hai dato Credo Però Per adesso Sacrifichiamola Stai sacrificando Un'arma posseduta Vuoi continuare Sì Ok Voglio Già Potenziarla Al meglio Che possiamo Peccato Ci manca poco Per salire di livello Va bene Vediamo che cosa Nascondono Questi due Scrigni Secondo me Soldi Te la butto lì Ovviamente Vediamo l'altro Meglio spero Qualche arma In realtà Solo soldi Vabbè guarda Mi sono ripagato Quei 2000 di gold Che ho speso Prima Per prendere Questa stronzata Altro boss Aia Dai colpisci Ok Ok no Con i grossi Non funziona Con quelli grossi La tecnica Non funziona Madonna mia Madonna mia Uh aspe Faccio anche un colpo Eh Quella Uh uh Siamo un po' troppi Qui eh Porca Essere Riuscito un attimo A fuggire Calmo Dai Durati Ok Distrutto E abbiamo ottenuto Anche un pezzo Di equipaggiamento Ok Questa zona Effettivamente Mi avevano un attimo Incastrato Però abbiamo ottenuto Degli spallacci Dei begli spallacci Danno da colpo critico Ok Bello Guarda che bello Che sta diventando Morte Abbiamo ottenuto Arcano Difesa di Danilo trovato Questo proprio no Ok Il resto possiamo dare In pasto Alla falce Vediamo Io Ti darei Prima L'ammuleto Danni probabilità Di colpo critico Perfetto E possiamo aumentare Difesa arcano Danni da colpo critico Energia metitore D'esecuzione Io farei difesa Un bel 22 Di difesa extra Però Già anche Quella L'energia D'esecuzione Mica male Però per adesso Stiamo così Allora Qua come si prosegue Saltando sul muro Molto stretto Eh Però Ci siamo riusciti Molto bello Ste party La prince of persia Prince of persia Purtroppo È uno di quei titoli Che voglio recuperare Perché non ho avuto Molto modo Da bambino Di poterlo giocare In modo completo Perché me l'avevano prestato E non E non me lo lasciavano Ovviamente Dovevo restituirlo Vabbè giustamente Le cose si restituiscono Pezzi di merda Se uno ti presta qualcosa Bisogna restituirla È giusto così Oh merda Mi sono Lanciato di sotto Che scemo Ma Qua in acqua C'è qualcosa Posso risalire Posso risalire Perfetto Bisogna sempre andare in acqua A vedere se c'è qualcosa Di nascosto Poi magari finisci dentro Un buco nero Ti ritrovi dentro Una pianta Per carità Non sia mai Ad esempio Qua c'è un buco Andiamo a vedere Che cosa nasconde Magari si nasconde Un'altra arma Chi lo sa L'importante È non finire incastrati Si sale Si sale Si sale Perfetto Ok siamo finiti Dove c'è la caccola esplosiva Perfetto Allora Calmi tutti Calmi tutti Perché Prima di tutto Pam Esplode Perfetto E la porta si aprì Ora Prendiamo questa Ci dobbiamo Buttare di sotto Ed aprire Quel passaggio Pam Esplode Cesta Eccoci qua Vediamo Soldi Soldi E forse un'arma Allora Ho visto qualcosa Non so se era un'arma Si era un'arma Ed è Un'ascia Carina Ah guarda Con sto aspetto Quest'ascia è molto decente È molto molto bella E ora finalmente Possiamo provare La schivata in avanti Triangolo Con un'arma pesante Ok Con le armi pesanti Ha già più senso Le asce sono bellissime Quest'ascia è bellissima Il colpo In avanti Con il triangolo Ha senso Con le armi pesanti Me lo immaginavo Ma Mi aspettavo Non lo so Che anche con Con le armi Le veloci Facesse qualcosa Però vabbè È pur sempre Un modo per attaccare Dunque per proseguire Dobbiamo risalire Da questo lato Salire sul muro E farci Il Percorso All'inverso Ecco qua E siamo arrivati Ora Da questo lato Scendiamo Con molta attenzione Ok C'era un appiglio Come faccio a proseguire? Devo scendere Scendi di sotto Prosegui Di qua Bravissimo Ora Saliamo Sopra E probabilmente Dobbiamo trovare Una leva Dobbiamo trovare Una leva Per aprire Quel forziere Di là Lì ce n'è un altro Tra l'altro Di forziere Vorrei buttarmi In acqua Per vedere Cosa succede Cos'era? Un pinguino? Ho sentito Un Aspetta Forse No Scherzavo Mi sembrava Se potesse Proseguire Da questo lato Strano In acqua Non stiamo trovando Più niente Vabbè Tra virgolette Più niente Ma almeno Prima abbiamo trovato In acqua Il Quella specie Di Di amuleto Che stiamo dando A vulgrim No Ti prego Non dirmi Che devo portarmi Cos'è? Un'altra falce? Non dirmi Che devo portarmi Il caccolone Ah no Per fortuna No Non a questo giro Anche perché Quello esplodeva Dopo poco tempo Altra boss fight? Cosa cazzo sei? E' un tiki volante E' una testa di tiki Esplode Dopo poco Perfetto Allora Calmi tutti Perché io Sono Senza Energia Ok Calmi un attimo Porca puttana Qua mi sa che ci cremo Qua mi sa che ci cremo Se non faccio un attimo di attenzione Ci muoio Mi stanno Stringendo agli angoli Sono in troppi Dai Con quanto sono rimasto Con quanto ero rimasto Ah ok Dai Non siamo ripartiti Da troppo lontano Non è che abbiamo perso qualcosa Tipo soldi O altro Ok Rifacciamo lo scontro Per fortuna che gli posso sparare A sto coto Ok Comunque Lo scontro Lo rifai con le stesse Esatte risorse Che avevi Prima Ok Ok Devo disfarmi Subito di questi Di questi piccoli Ok Ok Sto giro Dobbiamo No Abbastanza cotto Tieni la collera Vieni qua Perfetto E ora Sei rimasto Solo tu Musè ti ho messo All'angolo Oh Finalmente Era una cagata Di battaglia Solo che mi avevano colto Di sorpresa Ed ero Totalmente Senza energia Perfetto E siamo arrivati Dall'altro lato Del portone Da qui C'è una leva Forse Qua troveremo la chiave Apriremo Il cancello Che è chiuso Dammi la chiave Grazie L'animazione L'animazione L'ho già detta È stupenda L'animazione È proprio Bella Bella E la chiave La usiamo Qua sotto Finalmente Apriamo il portone Ovviamente Non demoniaco Perché non è demoniaco E finalmente Siamo arrivati Qui Che cosa si nasconde Qua dentro Lo stiamo per scoprire Finalmente Secondo me È un'altra arma Maglio di pietra Nelle mani del fabbro esperto Questo martello Concede l'abilità Di forgere armi E corazze potenti Restituisce la valus A tre pietra C'è una ragione Se l'ho trovato Sì Per farlo usare Forge danneggiata Completata Quindi è un dungeon Secondario C'è Era ovvio Era palese Non è che ci volesse Quel grande scienziato Che sono Però abbiamo trovato Un martello E quasi quasi Andiamo a vedere Se c'è ancora Se c'è ancora Carn Qui all'entrata Per chiedergli Dell'ultimo oggetto Che ci manca Però prima Torniamo qua Ehi voi due Ho trovato qualcosa Che potrebbe interessarvi Aiuto i costrutti Invece dei creatori Valus Non sembra Particolarmente colpito Già Soffre per la perdita Del suo amico Valus Aveva un amico Sì Il suo grande martello Il maglio di pietra Ha battuto Molti giganti Tranquillo L'ho appena trovato In un sotterraneo A ovest da qui E la perdita Gli pesa Se riuscissi a trovare Il miglio di più E trai a riportarlo A mio fratello Ti guadagneresti La sua gratitudine E forse potrebbe Forgiarti un'arma adatta Intendi questo? Mi aspetto La mia ricompensa Per il sangue Dei creatori Lei ci ha trovato Morte Non so che cosa dire Mio fratello Ti ringrazio Da troppo tempo Il suo amico Non era più al suo fianco Ora forgerà meraviglie Che questo mondo Non ha mai visto Ti lascio al tuo lavoro Valus Se dovessi tornare Da queste parti Potresti trovare oggetti Anche più potenti Ah beh E allora E là 1100 di oro Beh Meglio di nulla Ah è vero Abbiamo un punto abilità Ora Abbiamo un punto abilità E possiamo sfruttarlo Per prendere questo Sai che cosa farò Per adesso? Siccome appunto Noi possiamo Rispeccare il personaggio Io prendo le abilità Che per ora Mi sembrano utili E forti Poi quando probabilmente Arriveremo al livello massimo Che è il 20 O comunque giù di lì Rispecco il personaggio E faccio una build Più precisa Per adesso Mi prendo Questa roba qua Bello Bello Per togliersi di mezzo Tutti i nemici C Tra l'altro Devo andare un attimo Dalla tipa A comprarmi Una o due pozioni Giusto per sicurezza Il destino di un fratello Ti turba È il tuo passato Ma anche il tuo futuro Spallacci dei cavalieri Muri La sciamade I creatori Ti ha dato questi spallacci La sorte di tuo fratello Ti angoscia Ha detto È il tuo passato Ma anche il tuo futuro Pietra Legno Ferro Questi sono i doni Dei creatori Perché mi hai donato Sta roba Vabbè In realtà Queste due mosse Che abbiamo acquistato Finora Non sono mica male Perché questa Ti permette una mossa Che colpisce Ma è anche evasiva In avanti L'altra ti toglie di mezzo Tutti i nemici attorno Ma dai C'era una pozione Gratuita Nei vasi Che sfiga Ah tra l'altro La tipa ci ha dato Degli spallacci Che sono anche unici Mi chiedo Se erano già A livello 5 O solo perché Gli ho parlato Ma sono quelli Di guerra Questi Sono quelli Di nostro fratello Mi chiedo Quante altre cose Dei nostri fratelli Troveremo a questo punto Vabbè Non che sia una novità Perché anche guerra Trova le falci Di morte Da bulgrim Grazie a tutti